Nobilità ai tuoi risparmi, rendimento fino al 2%, un investimento equilibrato e responsabile, personalizzato e ad alto rendimento. Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, ci siamo. Un autentico spettacolo, quello messo in scena dai vigili del fuoco in piazza dei signori per festeggiare la patrona Santa Barbara. Detrati in frantumi in due bar, furti in abitazione, uno scippo violento, un bollettino da paura nella notte a Vicenza. Un operaio marocchino gestiva un traffico di droga dal suo garage a Quinto, la rivendiva in Campo Marzi. Zaia denuncia che la situazione delle banche popolari in Veneto è esplosiva, serve l'intervento salvezza del governo. Sarà la palestra di tutti, la struttura di Santa Maria Nova inaugurata deve diventare punto di riferimento per tutti gli sportivi. Il Corradini di Tiene anche quest'anno risulta il miglior liceo classico del Veneto. Il comune di Montecchio Maggiore si rivolge alla procura per capire dove finiscono i 35 euro assegnati dallo Stato per i migranti. Riaperti oggi al traffico a Vicenza e il ponte delle barche a D'Arzignano, quello di San Zeno. Benvenuti all'edizione della provincia di TVA Notizie. In apertura parliamo di Santa Barbara, la festa patrona dei Vigi del Fuoco che stamattina in piazza dei Signori a Vicenza hanno mandato in scena un autentico spettacolo di equilibrio e di coraggio. Prima una messa celebrata dal Vescovo Beniamino Pizzioli nella chiesa di Santa Maria del Foro, detta dei Servi. Poi un saggio tecnico professionale in piazza dei Signori. Il corpo dei Vigili del Fuoco della provincia di Vicenza ha voluto festeggiare così nel cuore della città la ricorrenza della patrona Santa Barbara. Tutti con il naso all'insù per ammirare la discesa di una squadra di pompieri dagli 86 metri di altezza della Torre Bissara con tanto rifmogeni sulla cima. Durante la calata, sulle note dell'inno di Mameli, è stata sottolata una bandiera tricolore lunga 25 metri. Quest'anno abbiamo voluto uscire fuori dalla caserma e festeggiare in piazza, in mezzo alla gente, con quella stessa gente alla quale noi rivolgiamo il nostro servizio ogni giorno. Oltre alla caserma del comando provinciale di Via Farini, il corpo dei Vigili del Fuoco è operativo con i distaccamenti di Bassano, Schio, Asiago, Arzignano e Lonigo, oltre ai volontari di Tiene e Requaro, ma il corpo è ancora sotto organico. Per il momento siamo in leggero sotto organico, però non abbiamo nessun problema per quanto riguarda il servizio da fornire alla cittadinanza. Abbiamo il personale giusto, adeguato, pronto per essere utilizzato per qualsiasi tipo di intervento di soccorso. La bandiera resterà appesa alla Torre Bissara per l'intero periodo natalizio. Beh, insomma, è un'immagine suggestiva, ma soprattutto è il modo con cui anche la città, avendo prestato la Torre Civica, ringrazio a questo straordinario corpo che è lì a prevenire, a consigliare, ad aiutare, a normare e a soccorrere. Notata di furti e di spaccate è il bollettino quotidiano che riguarda la città. Notata di spaccate e furti per la zona est di Vicenza, vittime dei ladri, locali, abitazioni eppure una donna anziana scippata mentre usciva dalla casa di cura a Villaberica dopo una visita medica. I malviventi, dopo la mezzanotte, hanno messo a segno ben due colpi in due bar, il Colorado Caffè di Viale della Pace e il Maracaibo di strada Padana. Nel mirino le slot machine e i cambi a monete. Nel primo caso hanno sfondato la porta principale per poi agire indisturbati, nel secondo i ladri hanno mandato in frantumi il vetro di una finestra, bottino in questi casi qualche migliaia di euro. Nel pomeriggio di ieri invece in via Caparozzo una donna di 73 anni che si era recata a Villaberica è stata avvicinata da uno straniero ed è stata scippata a soccorrere l'anziana un postino di 26 anni che ha rincorso il ladruncolo che, vistosi alle strette, ha lasciato la borsetta. In zona stadio si registra un colpo da 3.000 euro ai danni di una famiglia. Qui i ladri hanno sottratto capi di abbigliamento e ben quattro cinture. Altro furto in via Durando, in zona San Bortolo, dove da un'abitazione di una donna polacca sono spariti preziosi per oltre 1.000 euro. Cerca di sfondare la porta finestra murata di un appartamento del Campiello, ma il rumore richiama l'attenzione di un residente. Nei guai finisce un rumeno, ventenne, noto alle forze dell'ordine, che cercava di trovare un varco per dare modo a due prostitute, madre e figlia, di avere uno spazio dove ricevere i clienti. L'arrivo della polizia però manda in fumo il piano dello straniero che alla fine è stato denunciato per danneggiamento e violazione di domicilio. Un insospettabile operaio marocchino di 28 anni gestiva un piccolo traffico di Yashis che dal suo garage di un'abitazione di Quinto Vicentino era indirizzato a Campo Marzo e Viale Milano. La sezione antidroga della squadra mobile di Vicenza con un blitzer lunedì mattina ha arrestato un giovane trovato in possesso di due etti di fumo, una buona parte di questo suddiviso in ovuli probabilmente arrivati all'interno dello stomaco di un corriere della droga. 11 contenitori ancora sigillati che a loro volta potevano essere tagliati, tutti nascosti nella custodia del triangolo di segnalazione della sua Golf. Nella rimessa del piccolo appartamento dell'Interland dove il 28enne vive con la madre e il fratello, grazie al fiuto di un cane antidroga è stato recuperato anche un parento di sostanza stupefacente nascosto nel portoggetti dell'auto e poi bilancini di precisione, un cellulare e 200 euro in contanti. Il marocchino, definito un micro spacciatore ma con un giro di clienti fidelizzati, si sarebbe stato capace di smerciare dosi anche per 4-5 mila euro. Sì, noi crediamo tantissimo nell'incidenza sui fenomeni criminali che si sviluppano sul territorio, quindi a prescindere dalle grandissime indagini di narcotraffico che pur rendono lustro alla Polizia di Stato, noi crediamo molto nella capacità di incidere sulla qualità della vita della città e quindi in questo caso aver assicurato alla giustizia un spacciatore che comunque era fornitore di altri suoi collaboratori che gestivano attività di spaccio nelle zone notorie della città dove si vende stupefacente per noi è motivo di soddisfazione. I genitori di 150 studenti dell'Istituto Alberghiero da Schio daranno vita ad una manifestazione di protesta mercoledì 16 dicembre per contestare la mancanza del laboratorio di cucina necessario alla formazione degli iscritti all'indirizzo enogastronomico. Intanto i ragazzi delle quinte B e C del liceo Boscardine che nel giorno degli attentati di Parigi hanno rinunciato alla gita scolastica nella capitale francese hanno deciso per un viaggio virtuale realizzando opere d'arte e installazioni che sono esposte a scuola. Il lavoro collettivo è diventato anche un video che verrà inviato all'ambasciata di Francia in segno di amicizia. E restiamo nell'ambito scolastico e andiamo tutti in palestra a Santa Maria Nova. E' ricordando il giovane partigiano Antonio Giuriolo che gli alunni dell'omonima scuola media inaugurano alla presenza del sindaco Achille Variati la palestra di Santa Maria Nova destinata, come sottolinea il provveditore Giorgio Corà, a diventare il centro della vita educativa per 156 scolari della primaria Giusti e per i 400 alunni della secondaria Giuriolo trasferitisi da Contrariale in settembre. Qual è stata la parte più difficile di tutto questo complesso cantiere, di questo lavoro? E' stato organizzare il trasloco e rendere agibile la scuola per inizio di settembre perché i lavori non erano ancora conclusi. Penso che sia la più bella struttura del centro città. Vorrei ricordare che questa è una delle poche palestre del centro città quindi ci teniamo in modo particolare non solo per la scuola ma soprattutto perché è una palestra della città, dei cittadini per tutte le attività sportive che sono nel centro città. La palestra, dotata di spogliatoi moderni, precisa l'assessore Cristina Balbi è frutto di un cantiere, costo 635 mila euro, che ha dovuto tenere conto del giardino antico del valore storico dell'edificio del vincolo architettonico delle mura di San Rocco. Sospiro di sollievo per i residenti e commercianti di Contrabarche. Rimaniamo a Vicenza, nel pomeriggio infatti ha riaperto al traffico il ponte chiuso a pedoni auto dal 19 ottobre. Tempistica del cantiere è rispettata in pieno meno per quanto riguarda la passarella pedonale che doveva essere aperta nelle fasi dei lavori per far transitare i passanti e che invece rimarrà chiusa probabilmente fino a maggio. Il comitato dell'Alber ha firmato una lettera e l'ha inviata alla direzione generale dell'ANAS per capire la situazione riguardo l'assegnazione dei lavori della bretella. I cittadini che risiedono lungo la provinciale 46 Pasubio si chiedono quando avverrà l'aggiudicazione a una delle 23 imprese che hanno partecipato al bando di gara. Il comitato dell'Alber riferisce di avere precise informazioni in circo all'avvio della fase di esproprio dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera ma chiedono alla direzione ANAS una più precisa e puntuale informazione. Veniamo al tema delle banche popolari. Zaia chiede l'intervento del governo. La situazione delle banche popolari è esplosiva, il governo deve intervenire. E' un Luca Zaia mai così preoccupato a parlare dalle pagine del Corriere del Veneto rivolgendo un accorato appello al Premier Renzi perché si attivi per salvare gli istituti di credito come la Popolare di Vicenza e Veneto Banca che hanno contribuito a rendere grande questo territorio. Ciò che sta accadendo, mentre il Presidente del Veneto è un detonatore che rischia di far saltare l'intera economia della regione e mandare sull'astrico migliaia di famiglie che in quelle azioni hanno investito i risparmi di una vita e costringere decine di aziende che quelle azioni le hanno messe in bilancio a portare i libri in tribunale. L'Italia, si chiede Zaia, può permettersi di non far nulla mentre la locomotiva si ferma? Facendo riferimento al recente salvataggio da parte dello Stato di quattro banche, Etruria, Chieti, Marche e Cari Ferrara, Zaia auspica l'intervento anche per Popolari di Vicenza e Veneto Banca della Cassa Depositi e Prestiti. Il Presidente della Regione parla l'indomani della notizia del prezzo di recesso delle azioni fissato da Veneto Banca a 7,3 euro, con un crollo del valore di oltre il 76%. Ad aprile valeva 30,5 euro. Detto che si tratta di un diritto solo sulla carta perché non è certo che l'Istituto possa liquidare tutti gli azionisti che volessero uscire prima della trasformazione da Popolare a S.P.A., la cui approvazione sarà votata in Assemblea a Montebelluna il 19 dicembre. A Vicenza sono migliaia gli azionisti della Pop-V che già si chiedono cosa succederà quando toccherà alla banca di Via Framarine decidere il prezzo di recesso. Se si dovesse usare lo stesso bilancino, gli esperti profetizzano che non si andrebbe oltre i 12 euro per azione. Da queste parti l'Assemblea non arriverà prima di marzo, sperando che nel frattempo l'appello di Zaia allo Stato venga ascoltato. Tutto è pronto nella Diocesi di Vicenza per celebrare l'avvio dell'anno santo voluto da Papa Francesco all'apertura della Porta della Misericordia. È fissata, ricorda il Vescovo, in cattedrale per sabato 12 dicembre alle 18.30. Il 13 dicembre il Giubileo prenderà avvio nei tre santuari mariani alle 6.30 dopo una notte di veglia a Monteberico, alle 15 al Santuario di Scaldafferro, alle 16.30 all'apertura della Porta alla Pieve di Chiampo. Una particolarità lega i luoghi giubilari vicentini a quest'anno santo. Sia Scaldafferro che Chiampo ospitano i mosaici di padre Rupnik, autore anche del logo del Giubileo della Misericordia. Non verrà ripulito il crocefisso imbrattato di vernice ad Arcugnano. Posizionata sulla sponda del lago di Fimon, la grande croce con il Cristo dolente, è stata per la seconda volta scarabocchiata con lo spray verde. Ma questa volta l'amministrazione comunale di Arcugnano ha concordato con il parroco di lasciare il crocefisso così com'è sfregiato dal getto blasfemo di alcuni vandari. Ci fermiamo, un po' di pubblicità, a tra poco. In un servizio del nostro telegiornale andato in onda ieri avevamo lamentato che Campomarzo si presentava privo di qualsiasi illuminazione natalizia. Il vice sindaco Jacopo Bulgarini Delci ha voluto precisare che mai il parco storico di Vicenza è stato addobbato e che comunque difficilmente qualche filo di luce incentiverebbe i vicentini a passeggiare in questo periodo di sera a lungo Viale Dalmazia. Ma altresì ha voluto sottolineare che per la prima volta è stato illuminato e per intero Viale Roma pur affacciandosi poche attività o abitazioni sul rettilineo di ingresso alla città. Rispetto alla diminuzione delle luci in piazza dei signori Bulgarini ha commentato che c'è qualche filo luminoso in meno ma la cascata copre tutta la piazza fino al mastodontico albero di Natale. A proposito di Campomarzo e Viale Retenio saranno abbattuti lì nove alberi a partire da lunedì. Si tratta di piante molto malate o addirittura già morte che rappresentano un pericolo e per questo motivo richiedono un intervento urgente. Al posto degli alberi abbattuti saranno messe a dimora entro la primavera nuove piante. E continuiamo a parlare di alberi nel prossimo servizio. Ci sarebbero stati anche momenti di tensione al quartiere di Laghetto nei pressi del parco pubblico che si trova all'incrocio tra via Lago di Varano e Lago di Lesina per l'intervento delle squadre di manutenzione del verde pubblico inviate sul posto dal comune di Vicenza. Alcuni residenti si erano posti al lavoro di motoseghe e cesoie ritenendo che fossero stati programmati tagli indiscriminati, in particolare quello di un albero definito da alcune signore che hanno inizialmente presidiato l'area verde in segno di protesta un capolavoro della natura. Alla fine, tornata la calma, gli operai hanno fatto quanto da programma. L'assessore Cristina Balbi ha assicurato che si è trattato di manutenzione per quanto riguarda le potature e del taglio di un albero che risultava però gravemente malato. Ha comunque chiesto una dettagliata relazione in proposito ad AMCPS. E per le festività di Natale l'amministrazione comunale di Vicenza ha deciso di regalare ai cittadini l'ingresso gratuito alla Basilica Palladiana e alla Terrazza fino al 31 gennaio a partire la domenica prossima. Sarà Davide Merlini, ex cantante di X-Factor, l'ospite d'onore al concerto d'avvento promosso da Equo in programma lunedì alle 20.45 al Teatro Comunale di Vicenza. Sarà prevalentemente un concerto natalizio gospel sul palco in New Spiritual Band diretti dal maestro Brunelli. Per l'evento, rileva Alessandro Pellizzari, direttore di Murialdo Onlus, sono già stati ritirati circa 700 biglietti. altri ne sono disponibili al patronato Leone XIII, lo scopo è raccogliere fondi da destinare alle missioni dei Giuseppini del Murialdo in Italia e in Colombia. Domani in Piazza Castello a Vicenza, nell'ambito delle iniziative Magico Natale, in programma la manifestazione dedicata alle passioni e al collezionismo organizzata dall'associazione Il Tritone e Vivere Fogazzaro con il supporto del Comune. La qualità ambientale dei nostri fiumi dipende molto da cosa scarichiamo e la depurazione delle acque di scarico ha un ruolo importantissimo nel migliorare i corsi d'acqua e quindi l'ambiente che ci circonda. Per questo motivo, Acqua e Vicentine mette in campo un forte impegno a livello tecnico ed economico con l'obiettivo di convogliare i depuratori più scarichi possibile e rendere sempre più efficiente il processo di depurazione. Negli ultimi 5 anni, ad esempio, sono stati collegati a depurazione 23.000 abitanti che prima scaricavano direttamente nei corsi d'acqua e la rete fognaria ha raggiunto altri 11.000 abitanti prima non collegati. Gran parte degli investimenti che stiamo facendo in questi anni, grazie poi al pagamento delle bollette dei cittadini, sono destinate proprio ad opere di fognatura e di depurazione che servono in fondo a portare dei miglioramenti ambientali soprattutto. Poi è importante, anzi fondamentale, che venga fatto anche un lavoro all'interno delle abitazioni perché laddove serve o completare l'allacciamento o separare le reti, le acque i tetti, con le acque e degli scarichi, è importante che le facciano i cittadini. Se non si fanno questi interventi e quindi non si completa l'opera anche nella parte privata, si vanifica lo sforzo da parte di tutti. Entro quando bisogna fare questi interventi? Normalmente una volta che noi abbiamo completato le opere, mandiamo una comunicazione a casa delle persone e diciamo che normalmente c'è circa un anno di tempo per completare questi lavori. A Natale la tua stella vuol dire speranza, si rinnova anche nelle piazze del Vicentino oltre che nel nostro studio l'appuntamento di solidarietà promosso dall'Avil AI, l'associazione contro le leucemie, i linfomi e i mielomi. Dal 5 all'8 dicembre tornano le stelle di Natale, acquistarle serve per aiutare la ricerca e l'assistenza per i malati. Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, tra poco. Bar Bruschetteria da Piero, specializzato in bruschette, fagioli, stufati, gules, stinchi a Torre Belvicino. Il miglior liceo classico del Veneto è ancora il Corradini di Tiena, decretarlo la classifica della Fondazione Giovanni Agnelli che analizza gli istituti superiori per aiutare le famiglie a orientarsi nella scelta scolastica. Il Corradini si aggiudica il primato regionale per il secondo anno consecutivo, non solo l'istituto tinese sale sul podio, anche quello per il classico ma anche per l'indirizzo linguistico. Sparito nel nulla il cancello d'ingresso di un'abitazione a Carrè, l'incredibile furto è stato messo a segno nella notte in via Cavecchia. I ladri hanno rubato l'inferviato in ferro del valore di circa 2-3 mila euro. Presentato a Tiene uno studio che parla della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Bullismo, baby gang, i fenomeni crescono anche tra quei minori al rischio che nell'Alto Vicentino rappresentano il 37% dei casi seguiti dall'Ulss4 che si occupa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La percentuale si alza rispetto a qualche anno fa, basti pensare che 5 anni fa quei minori rappresentavano il 25%. In questi 6 anni si è visto effettivamente che l'età delle situazioni presse in carico dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie è aumentata e a questo sono legati sicuramente atti di bullismo. Chiaramente non siamo in grado di rispondere a tutte le situazioni di bullismo ma a quelle situazioni più gravi dove ci sono ripercussioni negative all'interno della famiglia sicuramente sì. Sono alcuni dei dati forniti dai servizi sociali e sociosanitari dell'Ulss4 che collaborano con le amministrazioni comunali nel monitoraggio dell'infanzia e dell'adolescenza a rischio presentati questa mattina a Tiene. Sono attualmente 399 i minori seguiti dall'unità infanzia, adolescenza e famiglia dell'Ulss4, tutti dietro a compresa tra gli 0 e 18 anni, bambini e ragazzi che fanno capo a 264 nuclei familiari all'interno dei quali il disagio sale con il tempo a causa dei maltrattamenti, degli abusi, della grave trascuratezza. In collaborazione con il Comune di Schio e la Fondazione del Teatro Civico, l'Orchestra dell'Accademia Musicale di Schio ha presentato la stagione concertistica che si svolgerà da gennaio a maggio con 5 dati in teatro e una in Duomo. Il cartellone sarà inaugurato mercoledì 6 gennaio alle 17 al Teatro Civico, protagonista dell'Orchestra dell'Accademia Musicale che sarà diretta da Filippo Maria Bressanna. La chiesa di Santa Maria Annunziata a Marano ospita domenica alle 16 il concerto ad ingresso libero degli IMT Vocal Project, formazione vocale nata per iniziativa del maestro Lorenzo Fattambrini all'interno dell'Istituto Musicale Città di Tiene. Il concerto dell'Avvento di Marano è organizzato dall'Associazione Vicentina Satiagra che si occupa con il sostegno a distanza del recupero di bambini orfani e vittime di abusi del sud. Vi aspettiamo i sabati e le domeniche sera di dicembre ad Alte per gustare i piatti della tradizione veneta con musica e spettacoli. Proloco Alte Montecchio con il patrocinio del Comune. Il Comune di Montecchio Maggiore si rivolge alla Procura per capire dove finiscono i 35 euro assegnati dallo Stato ogni giorno per un migrante. Il Comune di Montecchio Maggiore vuole capire dove vanno a finire i 35 euro assegnati dallo Stato per ogni migrante e così si rivolge alla Procura. Vuole far chiarezza sulla gestione dei migranti presenti in città ma soprattutto vuole far chiarezza sui sussidi statali che secondo un'indagine della Polizia Locale arrivano raramente o soltanto in parte alle famiglie ospitanti. Alcune di queste famiglie, spiega il Comandante Massimo Borgo, hanno dichiarato che la cooperativa aveva promesso loro 5 euro al giorno, soldi che non sarebbero mai stati dati. Il Comune di Montecchio Maggiore chiede risposte chiare in virtù di quei controlli da parte della Polizia Locale che fino a questo momento hanno portato a redigere ben 5 sanzioni da 320 euro per un totale di 1600 euro recapitate dalla cooperativa padovana che si occupa di accoglienza dei migranti. Provvedimento che in queste ore la Polizia Locale sta notificando anche a un istituto religioso della città. Vogliamo sapere, finalmente, sarebbe anche ora, questi soldi, voglio dire, che fine fanno, ovvero il cosiddetto business delle cooperative nella gestione dei migranti, in effetti, come funziona. Perde il controllo dell'auto, si schianta contro il guardrail. L'incidente è accaduto ieri intorno alle 19 in via Roggia a Montorso. I vigili del fuoco di Arzignano arrivati sul posto hanno soccorso l'uomo che è stato estratto dall'abitacolo e ricoverato in condizioni serie all'ospedale Cazzavillana. Ha riaperto a Darzignano il ponte di San Zeno, chiuso al traffico dal giugno scorso a causa del cedimento di una soletta. L'esecuzione dei lavori è stata più complessa del previsto. Il costo dell'opera è stato di 130 mila euro. Allenamento oggi per il Vicenza, che dopo l'eliminazione della Coppa Italia ha lavorato a Isola in vista della gara di domenica al Menti con la Salernitana dopo il turnover di ieri a Modena nella sfida col Carpi. Marino dovrebbe tornare ad inventarsi l'ennesimo nuovo 11. Il tecnico bianco-rosso, oltre ai vari infortunati, non avrà a disposizione di squalificati Mantovani e Raicevic. Ancora una volta sarà costretto a scelte obbligate un po' in tutti i reparti. Scontato rientro tra i pali di Vigorito per un posto in difesa accanto a Sampirisi. Delia e Lavarone si contendono a Armaglia Rinaudo e El Asni. A centrocampo diverse risoluzioni possibili, mentre in attacco a fianco del duo Giacomelli-Galano la scelta cadrà su uno tra Gatto e Pettinari. È il momento del basket di Eurolega. inizio shock con un parziale di 11-0 a favore delle ospiti che è subito messo in salita la gara delle padrone di casa, ma l'orgoglio e la qualità delle campionese d'Italia si sono subito ridestati e così la formazione di coach Miguel Mendez è stata protagonista di una esaltante rimonta fino al vantaggio sul 22-16 nel secondo quarto. I secondi due quarti sono stati una battaglia continua, con le padrone di casa sempre incollate alle avversarie che però nel finale sono state più precise, imponendosi per un solo canestro di differenza. Scredensi, battute e resta la rabbia, ma ancora una volta hanno dimostrato di aver raggiunto ormai lo stesso livello tecnico di squadra che possono vantare budget astronomici rispetto a quello del club Biancoroncione. La qualificazione alla seconda fase, il prestigioso torneo continentale, sempre e comunque ampiamente alla portata. Prossima tappa mercoledì, 9 dicembre in Francia, ma domenica 6 dicembre intanto in programma schio il big match, il campionato contro Ragusa. Con le vicentine in testa alla classifica e chiamate a rispingere l'assalto delle siciliane seconda in graduatoria. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale provinciale di TVA. Grazie della vostra attenzione. Arrivederci. Grazie. Grazie.